Qualcuno potrebbe dire che i bus elettrici in Europa ottengono un grande successo, ma solo in conferenza, i volumi del mercato saranno, ma come si tratta con questa rivoluzione? Karin Rodström, senior vicepresident bussing coach di Scania, ha il tuo gruppo già realizzato l'elettrico? Sì, abbiamo mostrato l'elettrico a Busworld l'anno scorso, per la prima volta. Siamo lavorando una flotta test in Östersund, in norther Sweden. Nel prossimo anno avremo alcuni più bussingi al mercato, e nel 2020 iniziamo il full scopo di produzione. È molto facile direttamente bussing elettrico, ma cosa sui batteri? Quale è la tua strategia? Quando si tratta di tecnologie batterie, probabilmente non stiamo cercando di sviluppare le cellule batterie in casa. Stiamo parlando con tutti i grandi manufattatori batteri. Ovviamente collaboriamo anche con Trayton gruppo sui batterie tecnologie. E abbiamo anche collaborazione con Northvolt, quindi stiamo cercando di quanto grande parte della produzione batterie dovremmo accettare per noi. Inoltre, quando dovremmo vedere una reale risposta in termini dei volumi di mercato? Abbiamo alcuni scelari che stiamo lavorando. Se dovremmo riuscire il accordo di Parigi, crediamo che dovremmo riuscire almeno 50% del total volume di bussingi che dovrebbero essere elettrico nel 2025. Quindi speriamo che i cittadini e i paesi prenderanno loro responsabilità e avveniremo su questo. Allora mettiamo il plug e riuscire per un momento al gas. Scania ha lanciato un combustibile combustibile con LNG . Pensate che è un tipo di combustibile che può riempire il diesel in operazioni lunghe di scania, crediamo che LNG sia una soluzione per il futuro e anche per le lunghe distante. Abbiamo venuto con LNG-trucchi e anche i luoghi. Abbiamo anche visto che infrastrutture è stato creata all'Europa per fare questo cambiamento possibile. Abbiamo iniziato a portare i luoghi LNG-luoghi al mercato in l'inizio dell'anno. Abbiamo iniziato a portare i luoghi al mercato in l'anno. A presto! A presto!